Ciao a tutti ragazzi, sono Diego Sombrero e finalmente, finalmente un jet perché ho dovuto registrare questo video tre volte perché non trovavo un cavolo di jet per... Apriti, apriti che già la demenza di questo giorno... E vabbè, un jet... Scusi... Sorry, sorry... Non ho mai guidato un jet, sarà bellissimo... Va bene... Bellissimo... Eh, non so guidare... Scusate, non so guidare bene un jet, non l'ho mai guidato... Missili... Ok, voliamo... Sunshine... Nemo, go, again... Appa, ritorni... Boom... Steven King... Hit 2... Aiuto... Supposta il lane... Il mio air è diventato una supposta... Supposta il lane... Si... Si... Adesso proviamo a guidare questo robo perché mi sembra impossibile... Da guidare... Cioè io l'ho guidato... Si, ho registrato tre volte questo video per guidarlo... Ma in modalità regista puoi fare tutto quello che vuoi quindi... Che bello fare tutto quello che vuoi in modalità regi... Regista... Se mi si bloccano le eliche sono morto... No, in realtà no perché c'ho l'invincibilità... Quindi... Eh, vabbè... E dove ci sei? Allora, pronti allineato... Pronti per il lancio... Ci siamo... Ci siamo... Non schiantarti... Non schiantarti... Ripeto, non schiantarti... È diventato una supposta pure questo... Bah... Sono rimasto schiacciato, no... Aiuto, cosa sta succedendo? Esci! Ok... Va bene, cosa c'era qua dentro? E' vero... La verità regista... Che siamo morti... Non siamo morti... Fortunatamente... Vabbè... Ma ci abbiamo... Eh... Gli... Invincibilità... Comunque mi sento l'ecco... Una cosa stranissima... Dov'è la mia macchina? Andiamo a cercare un altro aereo... Perché è diventato una supposta quello... C'è un'ala qui! Incredibile! Guidiamo questa macchina... Cosa? Non ho capito... Minecraft... Sì... Ma non ho la line... Ok... 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 Ruzzolato per terra... Ok... Qui ci dovrebbe essere... La... Il bagagliaio... La bauliera dell'aereo... Ma non mi ci fa entrare... Ok... Intanto mi si è pure installato Fortnite... Sono io militare... Sono denti di ferro... Titan... Aerei... Proprio... Qua c'entra su misura... Guardate... L'aereo c'entra perfettamente su misura... Per... Una supposta... Non che diventi una supposta pure questo eh... Sali... Piano ma sali... Piano ma sali... Piano ma sali... Ce l'ho fatta... Ce l'ho fatta... Ce l'ho fatta... In prima persona non lo posso mettere perché... Ora ci schianteremo sullo Sentos... Comunque... Eh... Volevo provare a schiantarmi sullo Sentos... Quest'aereo è un qualcosa di fantastico... Non è grande come l'aereo passeggeri... Ma... È un qualcosa di fantastico... Ha un tocco... Ha un tocco militare che lo rende bellissimo... Comunque per attivare modalità regista su PlayStation 4... Bisogna per prima cosa... Tenere premuto il tasto... Non il tasto PlayStation... Quello sopra... Touchpad... Eh... Vabbè... Poi... Poi fate voi... Potete mettere... Quello che volete... Modalità regista... Sono armi illimitate con proiettili illimitati... Tutto quello che volete... I personaggi in modalità regista... Perchè non sapere se si sbloccano... Attraverso missioni eccetera... Eh... Vabbè... Non ci schianteremo... Non voglio fare un backflip con questo... Uno è un elicottero... Non voglio fare un backflip con questo... Non... È troppo bello per essere vero... E... Giallo mi senti? Ah è vero... Giallo non c'è... Quindi siamo soli... Perchè Giallo è andato a mangiare... E non c'è... E vabbè... Ma vabbè... Lago Zancudo... Ah... Dove c'è il mio veicolo è... È... È Ford Zancudo... Allora siamo allo Centos... Voglio fare una cosa in particolare... Intanto prima cosa... Distruggere quest'aereo... In modo che noi sopravvivremo... Tanto abbiamo una invincibilità... E vabbè... E poi... Fare il caos... Caos... Scatenare il caos... Ma anche su Borderlands 3... Eh... Vabbè... Ok... Edo... Edo... Ma che cos'era? Sempre... Sempre la connessione? Edo... Oh... Eeeh... Eurekaaa... Noltre palazzi... Noltre... Perché guidi così? Mi salta in su... Ok... Ok... Dove è andato l'aereo? Ok... Non volevo saperlo... Comunque... Salto... Schiantati bene al suolo... Ok... Come vedete... Quando ci schiantiamo... Questo è aperto... Possiamo vedere cosa c'è dentro... Ok... Vedo che fa freddo... Lo sento... Intanto che ho fatto un... Triplo backflip... Vedete... C'avete... Queste armi... Con la molodaf... 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 Lancia razzi... Quanto farà? Vabbè... Normal... E' un tipo... La carabina... Ok... Con un colpo sfascio un veicolo... Viva la libertà... C'è un tizio di là... Facciamo esplodere questa cabina... Perché... Non mi... Vabbè... Anche se prendi fuoco... Non succede niente... Comunque... Noi ci vediamo... Nel prossimo video... Ciao ragazzi... Vabbè...